Ciao, stiamo per entrare nel Tempio dei Numeri, questi oggetti avvolti dal mistero per i più lungo tutto il corso delle scuole superiori. Entriamo insieme, con il dovuto rispetto. Il Dipartimento di Matematica e Fisica è un luogo quasi mistico dell'Ateneo, dove con molti curricula differenti si preparano elementi più sintetiche, capaci di ragionamenti numerici dai risvolti a volte imprevedibili, spesso alla base di professioni inaspettate. Dal classico insegnamento al CDA di grandi aziende, dall'ottica alle geniali visioni astrofisiche che portano l'umanità in giro per lo spazio. Si può scegliere tra tre corsi di laurea triennale in matematica, fisica, ottica ed ottometria. Al termine, sei corsi specialistici, tra cui matematica per l'intelligenza artificiale, il curriculum didattico, il curriculum teorico-modellistico, astrofisica e interazioni fondamentali, il curriculum di fisica teorica e quello di nanotecnologie, fisica della materia e fisica applicata. Inoltre, insieme ai Dipartimenti di Ingegneria ed Innovazione, Scienze Giuridiche e Scienze Economiche, anche quello di matematica e fisica partecipa all'attività di iStore, un centro di ricerca con attività orientate alle tecnologie digitali per la realizzazione di ambienti intelligenti, sicuri e sostenibili. Infine ricorda, a qualunque curriculum di studi sceglierai qui, aggiungi una vita tra luoghi così. Università del Salento. Più curriculum, tanta vita.